Assegnate le deleghe ai membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Al presidente Stefano Allasia vanno la commissione nomine e la giunta per il regolamento. Per gli organismi consultivi Allasia sarà presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Comitato Diritti Umani, Consulta Femminile, Consulta Elette, Comitato Solidarietà e Stati Generali dello Sport e Benessere. Si è dovuto ufficializzare inizio legislatura tutte le presidenze, tutte le deleghe sulle consulte, sui comitati dell'ufficio di presidenza e si è ripartito in modo equo fra maggioranza e minoranza ma più che altro per competenze e capacità dei vari componenti dell'ufficio di presidenza. Mauro Salizoni condividerà la gestione del Comitato Resistenza e Costituzione, del Forum Giovani e degli Stati Generali Sport e Benessere. Ho avuto più richieste da gruppi di giovani che, malgrado la mia non più tenera età, evidentemente hanno fiducia e esprimono il piacere che io possa lavorare con loro. Franco Graglia seguirà con Allasia il Comitato Diritti Umani e continuerà con la titolarità della Consulta Europea, Consulta Femminile, AICRE. Faccio parte di un ufficio di presidenza in cui noto che ci sono tutte persone di buon senso. Il Presidente ha l'idea molto chiaro ed è molto determinato, quindi sarà un capitano che dovremo seguire. A Gianluca Gavazza va l'osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, il Corecom, il mantenimento dell'ordine in aula e nelle sedi consigliari. Mi impegnerò tantissimo per poter far sì di tutelare i nostri piemontesi di fronte a queste problematiche. Anche Giorgio Bertola si occuperà dell'osservatorio usura e del Corecom, oltre che del sistema informativo e della qualità della legislazione. Intendo soprattutto proseguire il lavoro già fatto all'interno dell'osservatorio usura, lavoro che ha portato a una nuova legge regionale che ne ha aumentato e potenziato le prerogative. Michele Mosca sarà consigliere segretario alla consulta europea e si occuperà dell'attività legislativa, oltre a essere con Bertola e Gavazza, incaricato del mantenimento dell'ordine in aula e nelle sedi consigliari. Ho scelto in particolare di occuparmi di Europa, quindi la possibilità di capire meglio come funziona la macchina europea. Ho ritenuto che fosse una delega e una materia importante. Ho scelto in particolare di occuparmi di occuparmi di occuparmi di occuparmi di occuparmi di occuparmi.